Care professoresse e cari professori, in quest'ultimo periodo si è molto parlato di violenza di genere e anche noi apriamo la nostra newsletter con un articolo dedicato a questo tema e in particolare dedicato all'esame dei contenuti del recente disegno di legge approvato in materia di contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica. Nel frattempo è anche iniziato l'iter della riforma costituzionale approvata dal Consiglio dei Ministri lo scorso 3 novembre e cogliamo quindi l'occasione per vedere quali sono i contenuti di questa riforma e come andrebbe a impattare qualora approvata sui singoli articoli della nostra Costituzione articolo per articolo. Spieghiamo tutto nel secondo contributo. Vi parliamo anche della GCM che ha sanzionato con oltre 15 milioni di euro sei società fornitrici di energia elettrica per pratiche commerciali aggressive e vediamo anche quali modifiche arriveranno prossimamente per quanto riguarda la disciplina delle locazioni brevi, cosiddetti affitti turistici. Infine l'Antitrust ha aperto un'indagine conoscitiva sull'uso di algoritmi per determinare il prezzo dei biglietti aerei per Sicilia e Sardegna. Ma che cosa è esattamente un'indagine conoscitiva e come vengono usati questi algoritmi per la determinazione del prezzo? Vi raccontiamo tutto nell'ultimo articolo. Con questo vi saluto, vi auguro un buon lavoro e ci vediamo qui come sempre fra altri 30 giorni.